Ce la faremo! Ce la faremo! Che vuoi? Che vai cercando? Il mio nome è Billy, Billy Nelson Faccio ritornare a casa I tuoi sono stati assassinati anni fa No! No! Chi è stato? Chi è stato? E' che? E' che? Ti trovo la volta che fai tardi! Ma chi è? Non lo conosco Ma certamente ti stai cercando un cuore Se per caso mire Ho visto l'ero Tu deve sapere Che in questo paese C'è chi comanda E dietro Chi comanda? Si sa! Chi ha il potere? Non si sa! Il suo nome è Roger Sanders Ci vediamo, scerifo! Ho l'impressione che finirà male Quella madre che abbiamo rubato Dobbiamo traslogarla Ho già ricevuto l'ordine da Palopas Ho già ricevuto l'ordine da Palopas Mi ritroggio! Mi ritroggio! Non ci sono Le città Non ci sono Sembri Mi ritroggio! Ti contiene i consegnati. Scusatevi, è tardi, devo appendere la bianca. Beh, si sta facendo tardi. Se prendiamo la borsa, è molto bravo. Allora muoviamoci ragazzi, andiamo. Allora muoviamoci ragazzi.